Se si potesse mettere una targa fuori dal suo portone di casa, bisognerebbe scrivere nonno d'Italia, perché è un uomo non solo adorabile, ma è un nonno super nonno. Si chiama Giovanni Damasio, noi lo salutiamo con un'immensa felicità. E' un ragazzo di 83 anni, c'è Ilaria Bornengo, grazie di essere con noi che è sua nipote. Un applauso anche per la nipote. Io dico nonno Giovanni, ma nonno Gianni. 83 anni, gli abbiamo chiesto i documenti all'ingresso, ne ha veramente 83, non si direbbe. Torino è la città, lei ha due figli e quattro nipoti. Esatto. Appello dei nipoti, come si chiamano? Ilaria, che è lei, Federica, sono di mia figlia, poi c'è Gaia e Alberto che sono di mio figlio. Eccoli là, tutti insieme, appassionatamente. Allora, questo meraviglioso signore ha lavorato nella Fiat, nella città... Giovanni Lamiera, come lo chiamavano, sarebbe stato Giovanni Agnelli. Ah certo, la Fiat di Giovanni Agnelli, lei ha lavorato lì e lei lavorava come Fabbro. Sì. Come Fabbro. Ora, come questo signore dal suo lavoro si sia trasformato, passando per un grande dolore familiare, perdendo sua moglie, in un nonno capace di crescere i nipotini, ma crescerli, proprio crescerli, cucinando. Sì. Ma me la racconta questa storia? Allora, lei è nata nel 99, a giugno del 99. Tesoro. Mia moglie, cioè, i primi mesi la tenevano a casa, perché logicamente la mamma non poteva lavorare. Poi hanno iniziato a lavorare, sia il papà che la mamma. E allora lei la portavano da noi, a volte d'inverno, a volte nel play, per non farle prendere freddo. E lei dormiva ancora. Tante volte la portavano a casa mia e la mettevamo nel letto e continuava a dormire. Non è certo, un batuffolo, chiaro. Poi mia moglie le dava il biberon, le cambiava il pannolino, tutte le cose che si fanno ai bambini piccoli. E ho avuto la sfortuna che a gennaio del 2001 mia moglie è mancata. E allora ho dovuto prendere io le redini in mano, lei aveva poco più di un anno. E come faceva da mangiare lei, ho continuato a farne io. I primi tempi con le pappette, eccetera. E poi è diventata grande e mangiava come noi proprio. Provate a immaginare, quest'uomo non è un uomo, è un rullo compressore. Allora stiamo parlando ovviamente di un grandissimo dolore, ma del fatto di dire, e io ora che faccio? Lei sapeva cucinare? No. No. Sincero. Che schiaffo che mi sono presa. Nel senso, cosa ha fatto lui? Si è messo sui libri, si è messo sui testi e ha imparato? Ho imparato a fare qualcosa. Lei, tra parentesi, mi ha aiutato a vivere da quando è mancata mia moglie. Allora io ho continuato a farle da mangiare. Poi dopo tre anni è nata la sorellina, Federica. Io ho continuato. Dopo tre anni ancora è nata quello di mio figlio, Gaia. Dopo tre anni ancora è nato Alberto. Poi quando sono passati i crani, che ho visto che non ne arrivò più, mi sono messo il cuore in pace. Aspettate un attimo, non si è solo messo il cuore in pace. Ilaria, allora questa è tutta la parte che noi non abbiamo visto, nel senso, ed è la storia. Quest'uomo che ha fatto il fabbro, con tanta delicatezza ha detto, Ilaria mi ha aiutato a vivere, no? Perché chiudi una pagina di una vita intera insieme e c'è qualcuno, i nipoti hanno anche questo dono. Però i nipoti hanno anche il dono di registrare. Avete avuto un'idea gagliarda, come si dice. Perché a un certo punto, questo chef, vero chef, quando avete pensato di cominciare a raccontarlo anche in video? Tutto è iniziato nel primo lockdown, quando tutti quanti ci siamo trovati un po' spiazzati dalla situazione. Lui ha iniziato ad avere molto più tempo libero, perché una cosa che non ha detto è molto importante, è che lui va in bocciofila da sempre. Quindi un'altra parte fondamentale della sua vita è il fatto che va sempre più. E quindi si è trovato senza anche questo. E ha dovuto iniziare a riempire questo tempo e ha iniziato a cucinare ricette nuove. E noi non potevamo mangiarle però, perché con il lockdown non potevamo andare a casa sua. E quindi ha iniziato a fare delle foto. E poi ci mandava un pezzettino di quello che cucinava sotto casa, lo venivamo a prendere, giusto il minimo che si poteva fare per la situazione. Ovviamente. E allora abbiamo iniziato, abbiamo pensato, visto che durante il lockdown tanta gente ha iniziato a reinventarsi in qualche modo, e abbiamo detto, perché non gli creiamo una pagina anche noi di cucina, noi nipoti? E così abbiamo fatto. E all'inizio non era tanto d'accordo. Io all'inizio proprio pensavo fosse una scherza, che non c'erano fatto. Invece poi ci è rivelata proprio una cosa seria, tanto da arrivare fino a qui. Caro Mano Gian, qua si fanno solo cose serie, guardatelo all'opera. Quest'uomo che fate le tagliatelle stellari, guardiamo. Grazie, grazie. Ma grazie a lei. E questa è la cooperazione di tutti i nipoti alle sue tagliatelle. Allora, il piatto stellare, il piatto da corona in testa, qual è? Lo dico io. Io ne potrei elencare diversi, però partendo dall'antipasto, che sarebbe i pomodori ripieni, al primo il riso con i gamberetti crostacei e la panna, il secondo cosciette di pollo arrosto in forno con patate. Noi abbiamo fame a quest'ora, Giovanni. Però scusami, il piatto forte sono le lasagne. Aspetta, 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 Ilaria, non facciamo finire. Dopo le cosciotte di pollo, le cosciette di pollo? La crostata. La crostata con i bertelli, i frutti di bosco. Molta gente cade sulla sua crostata, proprio ci cade così perché la vogliono mangiare. Ma quest'uomo è il re della lasagna. Eh già, è vero, stavo dicendo io, è proprio vero. Perché sono così buone? Eh non lo so, sono imbattibili. È il tocco, non lo so. Sarà il tocco, ma... Le fa anche di pesce, perché sua nuora è vegetariana. Quindi se vengo io a pranzo a casa sua posso mangiare le lasagne di pesce? Come no. Come no? Pesso, organizziamo. Partiamo subito. Allora, perché le sue lasagne sono così buone, signor Giovanni? Questo non lo so. È il suo, è andiamo, eh. Io ho imparato da mia moglie. Sì. Le davo una mano quando le faceva. Ho imparato un po' a farle così. Lei le faceva solo a carne. Poi quando è arrivata mia nuora, appunto per il motivo che non mangia carne, ho provato a farle al pesce. E col tonno, col pesce spada... Ho visto che andavano bene, loro mi dicono sempre che è tutto buono. Io credo che non lo dicano per bontà. Senta, ma i semolini, lei li fa? Sì. Che buoni. Sì. Che memoria da bambina. Sono buoni, eh? Buoni. Fritti. Sì, fritti. Prima li faccio con il latte, la semola, un po' di sale, eccetera. E una volta che sono fatti si lasciano a raffreddare, poi si tagliano a rombi e a sua volta si fanno friggere. E poi si mangiano. Sì, impanati con uovo e pane e pesto. Bene, io ho fame a questo caso. Uovo a casa state mangiando, ma qua c'è un gruppo che non ha ancora pranzato. Ma vi facciamo vedere questo nonno stellare, in tutti i sensi, alle prese con le crepe. Guardate un po', guardatelo. Ciao nonno! Tra tutti i ristoranti stellati io scelgo il nonno in cucina. Nonno sei il migliore in cucina. Tra tutti gli chef sei proprio il migliore. Vai super nonno! Allora, non erano le crepe, ma erano l'altra brigata. Le crepe le abbiamo, chiedo, in cucina? Le abbiamo, non è regia. In cucina, gentilmente, il nostro super chef Alessandro Tresa, che è il nostro regista, ovviamente, può farci assaporare le crepe di nonno Gian? Slurp, guardatelo. Guardatelo. No, va bene. No, lei è legale! Ma no! Lei non può saltare così. Ma scusi? Ho provato la prima volta, ho visto che andava bene. La prima ne andava bene? Cioè, lei sta continuando così, mi devo buttare per terra, io che non so cucinare un uovo. Ma lei ha mai pensato di fare scuola di cucina? No. Ci pensi? No, ormai alla mia età non vale più la pena. Certo, adesso il bello inizia ora. Che i ragazzi sono più grandi, che la coccolano. Sì, sì, ma non avrei tempo comunque. Io ho anche una casa da guardare, i nipoti, la bocciofila, eccetera. E non mi è impegnato. Senta, ma la bocciofila, lei le sue torte le porta? Sì, qualche volta sì. Qualche volta, dipende. Con un certo qualche volta. Questo l'ha fatto lei? Questi agnolotti? Sì. Sono agnolotti che ha fatto lui. Senta, Ilaria, no, c'è una torta che possiamo vedere, abbiamo anche... Sì, facciamo vedere anche la torta fatta dal signor Giovanni, detto correttamente. Nonno Gian, completamente autodidatta per una certa dottoressa Ilaria. Dio che tenerezza, fuori, fuori ovunque. Sì, è l'ingegneria. Quest'estate mi ha fatto la torta sorpresa, è stato bellissimo. La torta sorpresa per l'ingegner Ilaria, ma come si fa una torta? Così? La torta sorpresa per l'ingegneria. E' vero che di tutte queste bontà, quella che le riesce, diciamo, un po' meno bene, sono i tozzetti? Sì. Ma i tozzetti quelli che si intingono nel vino? No, quelli fatti come un grissino e poi si uniscono come una goccia d'acqua. I torcetti anche, forse quello. E quelli non riescono ancora come lei vuole? Non riesco a farli perché o mi restano troppo duri o non... Ho già provato più di una volta, non riesco a farli. Adesso però ho parlato col panettiere, mi ha detto un pomeriggio, vieni qua dopo le tre e mezza quando smetto di fare il pane e ti insegno come si fa. Senta signor Gianni, io immagino che essere suoi vicini di casa debba essere una meraviglia perché lei cucina, sforna, ha cresciuto i suoi quattro nipoti. Cioè ci deve essere sempre un profumo meraviglioso a casa sua. Penso di sì. Confermo. Confermo, è vero Elaria? Confermo. Qualche volta qualcosa non riesce anche. Lei sta guardando la donna sbagliata. Io ho fatto delle meringhe una volta e stavamo per chiamare i vigili del fuoco perché avevamo praticamente quasi preso fuoco la cucina e quindi a volte qualcosa non riesce. Questo invece è un club che l'hai riuscito perfettamente bene, giusto? Qualche anno fa. Qualche anno fa. Le cene dal nonno, come sono? Adesso c'è questa tradizione che ormai finché non ho memoria, che va avanti. Da quando è mancata la donna? Praticamente sì. Ogni venerdì nonno cucina, cena per tutti, per tutta la famiglia allargata, quindi nipoti, genitori. Quanti siete? Nove. Nove, più uno, dieci? No, nove compreso il nonno. Sì, sì, però comunque. Sono tanti. E sono tanti, sì. Sono tanti. Tutti con i loro gusti. Ormai sono abituato e riesco a gestire bene la cosa. Io le guardavo le mani prima. Lei ha le mani di un fabbro? Ex fabbro ormai. Di un ex fabbro. Beh, ma le mani non sono mai di un ex fabbro. Sono mani che hanno lavorato tutta la vita cose... Non lavorare, perché io anche a casa lavoretti tipo, non so, mettere una presa come ho fatto ieri per mia nipote, o aggiustare un mobile, qualsiasi cosa, ma raggio ancora a farlo e continuo a farlo. Mi fa anche piacere farlo. Ilaria, posso chiederle un favore? Sì. Gli dà un bacio da parte mia? Ma certo. Anche due. Grazie di essere stato con noi. Grazie mille. Grazie infinite. L'avevo detto, la targa, il nonno d'Italia. Grazie a tutti. L'ora solare si chiude qui. Ci vediamo in questo video domani. Grazie. Ma che amore. Che amore per lei. Che amore.